Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben ritrovati con il telegiornale di Alghero su Catalan TV, notiziario che apriamo parlando di sanità perché ieri nello spazio antistante l'ingresso dell'ospedale civile si è svolta un'assemblea generale di tutti i lavoratori dei due nennoso come i cittadini. Grande partecipazione e un coro unanime. Alghero merita un ospedale di primo livello. Alghero alza la voce, l'ha fatto ieri e lo farà anche nell'assemblea pubblica in programma con l'assessore Arru. In ballo c'è il futuro della sanità del territorio con il pericolo del classamento dietro l'angolo che tutti vorrebbero evitare. Manca il sogno di un nuovo ospedale che Alghero si porta dietro da anni e nel frattempo le criticità le quali si deve far fronte. In tutto questo quadro non mancano comunque alcune eccellenze che con il piano prospettato dalla regione sarebbero a rischio. Effetti di una razionalizzazione che rischia di pregiudicare gli attuali livelli assistenziali e che è stata contestata anche ieri nell'assemblea dei lavoratori alla quale hanno partecipato il commissario straordinario dell'ASL sassarese Agostino Sussarello e il direttore sanitario Maria Serenella Zedda. C'è un fronte comune, compatto, che contesta le scelte della regione ed è pronto a farlo anche presentandosi a Cagliari. Il sindaco Mario Bruno ha confermato l'esigenza di prevedere un presidio ospedaliero di primo livello supporto di tutto il territorio del nord-ovest della Sardegna, una rivendicazione che tutte le forze politiche sono pronte a far proprio assieme ai sindacati. Occorre che tutto il territorio del sassarese si opponga a questo tentativo di riforma penalizzante per le esigenze di servizi sanitari stando al fianco della politica e dei sindaci. In primo luogo ha detto il consigliere regionale Marco Tedde, sostenendo come ci sia una precisa volontà politica di affossare la sanità del territorio. Quello di Pigliarù e Arru è un tentativo di desertificare la sanità algherese e sassarese. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 21 settembre, quando nell'aula di Via Colombano ci sarà una nuova riunione della Commissione Sanità, alla quale parteciperanno anche i consiglieri regionali del territorio. E ora invece ascoltiamo le parole di uno dei dirigenti sindacali RSU dell'ASL numero 1 presenti ieri all'Assemblea, Pietro Ara, che commenta negativamente il piano di rete ospedaliera proposto dalla Regione. Perché vogliamo dire la nostra per quanto riguarda la riorganizzazione della rete ospedaliera. Non tutto il nostro territorio, tutti i lavoratori, ma penso che è un argomento che dovrebbe interessare tutta la popolazione e che non possiamo accettare questo progetto che viene presentato come un progetto di riforma per risparmiare, razionalizzare i servizi e risparmiare. Penso che il taglio dei posti letto non ha mai prodotto miglioramenti, anzi più hanno questa è la terza volta che tagliano i posti letto. Tutte le altre due volte che hanno proceduto al taglio dei posti letto abbiamo visto che la spesa sanitaria è aumentata. Quindi non è con il taglio dei posti letto che si risolvono i problemi del deficit sanitario. Per la sanità si spendono 3 passa miliardi di euro a livello regionale. I servizi sanitari, il costo dei servizi sanitari strettamente necessari, i servizi che vengono dati alla popolazione sono all'incirca 2 miliardi di euro all'anno. L'altro miliardo e mezzo doveva finire. È lì che bisogna tagliare. È lì che la politica deve avere il coraggio di tagliare quelle che sono le azioni di clientelismo e a volte vediamo anche strane spese che non si riesce a capire dove portano. Sicuramente non hanno portato a un miglioramento dei servizi che diamo alla popolazione e sicuramente hanno portato chissà perché a un aumento delle liste d'attesa. Oggi ci vogliono chiudere al ghero. Come è possibile, con le liste d'attesa che abbiamo lunghe, a oltre 8 mesi, come è possibile che Sassari, che ha una lista d'attesa che anche per quanto riguarda quel territorio siamo 8 mesi, chiudendo noi, convogliando tutta questa richiesta, questa domanda di sanità a Sassari, come è possibile Sassari che possa dare una risposta idonea a questa domanda. È impossibile. E ora cambiamo argomento perché nella serata di martedì gli uomini della Guardia Costiera di Alghero, nell'ambito delle operazioni di controllo sulla filiera ittica mirata alla pesca e commercializzazione dell'Aragosta, hanno proceduto al sequestro di 14 esemplari. Le Aragoste sequestrate al momento del controllo erano vive e tenute nella vasca a disposizione di un noto ristorante di Alghero, senza però avere la prevista etichettatura che ne permette la rintracciabilità e assicura al consumatore la certa provenienza in violazione delle disposizioni della regione in materia di pesca. I 14 esemplari per un peso complessivo di circa 9 kg sono stati riportati in mare nella stessa serata grazie all'ausilio di una motovedetta. La Guardia Costiera di Alghero ricorda che la pesca dell'Aragosta è terminata lo scorso 31 agosto in ottemperanza alle disposizioni regionali vigenti in materia. Il Movimento 5 Stelle di Alghero invece sarà presente con un banchetto di ascolto delle problematiche del disagio procurato ai cittadini dall'emissione dei cosiddetti bollettini pazzi secca al domani dalle 10 alle 13 davanti alla sede della società di riscossione in via Marconi. In questi giorni è ripreso il calvario dei 12 mila algheresi che a luglio si sono visti recapitare bollettini inerenti alla richiesta di pagare le tasse Tarsu anche relative al 2009 già pagate o pagate con ritardo di uno o due giorni. Si legge in una nota dei pentastellati. Cercheremo di capire come sia possibile che vengano emessi 12 mila simili bollettini di chi sia la responsabilità e se e come sia possibile rifondere in qualche modo il disagio procurato alla cittadinanza coinvolta oltre alle spese per le raccomandate postali inutilmente inviate. Sembrerebbe il condizionale d'obbligo visto che l'ipotesi ha del farsesco che siano spariti i conti relativi agli anni 2009-2010. Si legge ancora. Siamo convinti che la sanzione qualora dovuta debba aver valenza di mera deterrenza e non di odiosa e iniqua gabella orientata al fare cassa per soddisfare esigenze di bilancio. Meno che mai se l'incasso è legato alla possibilità che l'onesto contribuente non abbia conservato la ricevuta di versamenti effettuati molti anni addietro. Non osiamo immaginare cosa succederebbe, stante episodi simili, se Secal disponesse della gognata riscossione coattiva alla stregua di Equitalia. Prosegue la nota del Movimento 5 Stelle. La preoccupazione è grande, non contribuiscono certo ad alleviarla le promesse di condono non mantenute per le more causate da ritardi nel pagamento di 1, 2 o 3 giorni. E anche quest'anno, come negli anni scorsi, l'ufficio di rappresentanza della Generalità di Catalunia ad Alghero organizza la celebrazione della Festa Nazionale della Catalogna, la tradizionale Diada. In tale occasione, in collaborazione con l'Istituzione dell'Asselietras Catalanas e col patrocinio dell'Amministrazione Comunale e della Fondazione Meta, verrà offerto lo spettacolo Esteglias de Ma e Ma, che si terrà questa sera alle 21 al Qualte. Abbiamo intervistato Gioana Adel e Laura Borras. Siamo della Diada di Catalunia a voi a CatalanTV, siamo in compagnia di Gioana Adel, direttore dell'Espai Luglie, CEO della Generalità di Catalunia all'Alghè e di Laura Borras, direttore dell'Istituzione dell'Asselietras Catalanas. Gioana Adel, per cosa all'Alghè, anche a di Gioana Adel, per cosa che ci s'està lasciando la festa a Cattolònia con l'Amministra, a Cattolònia, con degli apuntamenti avui all'UQualte. Sì, perché totes le seus che tiene il Govern della Generalità a l'exterior, vol comparte la nostra festa con i ciutadans de la città che ci s'acull. I, in questo caso, l'Alghè acull la nostra delegazione. Per tant, vogliamo comparte la nostra festa con tutti i salgaresos, amb tots els arts, amb tots els ciutadans que són a la ciutat, perquè volem transmetre tots els valors, tot el sentiment de solidaritat cap al poble català, que en un moment transcendental de la nostra història segurament necessitem més que mai. Laura Borras, per la Catalunya és un moment assai empultant, aquell de la Diada. També vostè és anant qui a l'Alghè. Sí, perquè la Diada és molt, certament, la nostra festa nacional. I vam pensar en l'Espai Llull de fer aquesta col·laboració entre la institució de les Lletres Catalanes, l'Espai Llull per portar la força de la literatura catalana, feta música, amb un espectacle sobre Vicent Andrés Estellers, per mostrar també aquesta força de la catalanitat. És un poeta del País Valencià, que ens estimem molt, que ens en sentim tots molt nostre. I amb la companyia de Francesc Cagnó i Borja Penalba, estic segura que serà un espectacle que commemorarà la Diada, que farà Països Catalans i ho farem a l'Alghè, que sempre ens acull tant i tant bé. Adesso vi proponiamo, invece, un estratto de l'homaggio musicale que dos artistis catalans, Borja Penalba e Francesc Cagnó, hanno voluto fare in anteprima agli spettatori di Catalan TV. La versione integrale la potrete ascoltare subito dopo il TG. Hola, egli è Francesc Cagnó, io sono Borja Penalba e avui estem assí per fare un ammenatge, un nostre ammenatge particolar a Vicent Andrés Estellers, un poeta del País Valencià, i de pas commemorar, bueno, al voltant de la Diada, de la Diada catalana. Us esperem aquesta nit a lo quartier, a les 9 de la nit. I ara farem un fragment de... del McLame a tu, d'Estellers, musicat per Ovidi Mundur. M'aclami a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un nom o secreta consigna. Mare de vols, segrestar d'esperances. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins. Mare de vols, segrestar d'esperienza. Mare de vols, segrestar d'esperienza. I canteggior del mattino limitat. Mare de vols, segrestar d'esperienza. Mare de vols, segrestar d'esperienza. A tutti dal sindaco di Alghero Mario Bruno interverranno l'architetto Willy Hasler con la città intelligente e la mobilità sostenibile, Salvatore Masia, dirigente area di staff programmazione e pianificazione strategica, agenda 21 locale che presenterà i percorsi piedibus e l'ingegner Giovanni Vargiù del centro regionale di programmazione che parlerà degli accordi di programma verso una rete regionale della mobilità ciclabile. Modera Gabriele Esposito, assessore alle politiche comunitarie. E come avete sentito anche dai nostri titoli, tra oggi e lunedì tutte le scuole della città riaccoglieranno tra i banchi i propri alunni e studenti. Alvia dunque un nuovo anno scolastico e anche tempo di spese per le famiglie algheresi che saranno impegnate nell'acquisto di materiale didattico e libri di testo. Gli studenti algheresi stanno pian piano ritornando tra i banchi di scuola. Tra oggi, domani e lunedì gli istituti riaccoglieranno i loro studenti dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori. Nuovo anno, nuove spese per le famiglie che ora si troveranno ad affrontare i numerosi acquisti sia per quanto concerne il materiale didattico e soprattutto quelli per i libri di testo. E proprio rispetto a questo si parla di una spesa media di 600 euro a studente, alla quale poi vanno ad aggiungersi costi inerenti zaini, astucci e come detto tutto l'occorrente per la scuola. Ad Alghero il comprensivo numero 3 ha stabilito oggi la data del rientro di tutti gli alunni. Per quanto riguarda invece il comprensivo numero 2, oggi sono entrate le scuole medie e domani sarà la volta di elementari ed infanzia, mentre il comprensivo 1 riaprirà le porte domani. Per quanto riguarda gli istituti superiori, domattina rientreranno a scuola gli studenti dei licei Classico Manno, Artistico Costantino e Scientifico Fermi, ma anche quelli dell'Istituto Tecnico Rotte e dell'ITI. Previsto invece per lunedì 14 il ritorno tra i banchi dei ragazzi che frequentano gli istituti alberghiero e il professionale IPA. Sono aperte le iscrizioni al settimo workshop di fotografia naturalistica nel parco di Porto Conte dal titolo Wild in Porto Conte, a cura di Bruno Manunza, una tre giorni fotografica sulla flora, la fauna e il paesaggio. Si terrà nell'area del parco naturale di Porto Conte ad Alghero dal 18 al 20 settembre. Il programma del corso prevede elementi di composizione, tecniche operative di ripresa, macrofotografia ambientata, paesaggio e foto in bassa luce, nozioni di posto e produzione e discussione finale sugli scatti. Per ulteriori dettagli e per i costi si può chiamare il numero 328-6269-006 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica bruno-antasfoto.net. Nasce il progetto Uva Viva che farà rivivere le sensazioni e le emozioni della vendemmia di 5 cantine sarde con le foto condivise su Instagram. Appuntamenti a Suentu di Salluria, le tenute De Logu di Alghero, la cantina di Mogoro, le cantine di Orgosolo e da Audaria di Serdiana. Fa rivivere oggi lo spirito di festa e condivisione che la vendemmia ha sempre avuto in passato, raccontandola attraverso i nuovi strumenti della comunicazione social. Con questo scopo nasce il progetto Uva Viva, ideato dall'agenzia di comunicazione Redfish di Olmedo e da Winepix, l'applicazione che racconta il mondo dietro un vino, in collaborazione con l'associazione Sardinia Tass Lovers. L'iniziativa gode del supporto di Igers Sardegna, media partner ufficiale, e della partecipazione di altre community Instagram dell'isola, Loves Sardegna, IG World Sardegna e Insta Sardegna. Nella vendemmia si miscelano tradizione, lavoro, territorio e cultura a vinicola, in un blend unico per ogni cantina, raccontano gli ideatori. Le emozioni e le sensazioni di un momento nel quale tutto prende forma e si trasforma verranno raccontate con gli occhi, o meglio gli smartphone degli utenti, attraverso le foto condivise su Instagram e sugli altri social media con l'hashtag Uva Viva Sardegna. Cinque appuntamenti in altre tante cantine sarde. Si parte il 12 settembre con le cantine Suentu a San Luri per proseguire poi ad Alghero il 18 settembre alle tenute dell'Ogu. Il sabato successivo, 26 settembre, l'appuntamento per gli Igers e Wine Lovers è presso la cantina di Mogoro per arrivare poi al 3 ottobre per una visita alle vigne delle cantine di Orgosolo. L'ultimo appuntamento è fissato per l'11 ottobre alle cantine Audaria Sardiana. A tutti i partecipanti verrà offerta una degustazione in cantina accompagnata da piccoli assaggi di cibi del territorio. Alla foto votata come la più bella sarà assegnata in premio una fornitura di vini. Il progetto ha lo scopo di ritagliarsi uno spazio importante nella promozione delle cantine attraverso i social media, ma non solo. Vuole anche crescere e trasformarsi in un contenitore di eventi, appuntamenti e iniziative legate al mondo dell'enogastronomia. Tutti gli appuntamenti nelle cantine sono gratuiti e la partecipazione è aperta a tutti con un limite di partecipanti per ogni cantina, iscrivendosi sul sito uvaviva.winepix.it. Dopo aver ospitato Bruno Vanzan, ieri sera il Maracaibo ha offerto ai propri clienti lo spettacolo di Tomek Malek, uno dei migliori barman flair del mondo. Con il suo unico stile energico si è assicurato le vittorie nelle competizioni più importanti a livello internazionale. Ieri nel bancone vista mare del locale dell'Ido ha dato un assaggio di quello che è capace di fare, entusiasmando i presenti che hanno assistito all'esibizione del barman polacco. Dal 2004 Malek ha preso parte a più di 150 competizioni flair internazionali, vincendone 65. L'unico sinora nella storia del flair bartending ad averne vinte così tante, insomma davvero complimenti. E ora lo sport, sabato 12 settembre, in programma la Corri Alguero 2015 Nono Memorial Gianni Sardà-Zanardi. Una manifestazione di corsa che si svolge su un circuito cittadino organizzata dall'Alguero Marathon con il patrocinio del Comune di Alghero, della Regione del Coni e con il contributo di numerose attività commerciali cittadine. È stata proprio la Presidente dell'Alguero Marathon, Stefania Spanu, a parlarci della manifestazione sportiva. Stefania Spanu, Presidente dell'Alguero Marathon, è arrivato per voi un momento importante. A settembre c'è la Corri Alguero, è una corsa su un circuito cittadino che coinvolge sia i grandi che i piccoli. Vero Dolore, siamo finalmente arrivati alla nostra non edizione della Corri Alguero Memorial Gianni Sardà-Zanardi, che anche quest'anno coinvolgerà sia i grandi che i piccini, con due circuiti differenti. I grandi parteciperanno alla nostra manifestazione, correranno lungo le vie del centro storico, dei bastioni e poi, come al pari dei piccolini, termineranno al porto. Invece per i piccini, che divideremo poi in relazione alle loro età, correranno direttamente lì sul primo tratto della Buschè. Quindi, praticamente, questo appuntamento, come leggiamo dalle locandine, che ormai sono anche in giro per la città, è il prossimo 12 di settembre. Orari, iscrizioni, Presidente, diamo qualche direttiva a chi volesse iscriversi. Le iscrizioni per la non competitiva si apriranno a partire da venerdì alle 14.30. Invece, per quanto riguarda la competitiva, gli atleti sono già al corrente, sono già in atto le iscrizioni. Per quanto riguarda i piccini, grande sorpresa, abbiamo già raggiunto 90 iscrizioni, perché l'Alghero Marathon ringrazia il patrocinio reso dal Comune di Alghero, dalla Regione Autonoma Sardegna, dal Comitato CONI, e soprattutto per il contributo reso dalla famiglia Sardà, nonché dagli imprenditori e dalle numerose attività che operano nel nostro territorio, che hanno reso possibile la manifestazione. Adesso invece sentiamo le interviste realizzate sempre dalla nostra Dolores Serra con alcuni giovanissimi dell'Alghero Marathon, che quest'anno prenderanno parte alla gara non competitiva insieme agli adulti. Durante la Corri Alghero 2015, così come succede però tutti gli anni, non ci sono solo gli adulti a competere in questa manifestazione di corta, ma ci sono anche bambini e ragazzi di diversa età. Noi oggi siamo in compagnia di una delegazione dei giovanissimi dell'Alghero Marathon, che quest'anno si cimenteranno in un percorso differente da quello dell'anno passato, quindi correrete con gli adulti. Filippo, innanzitutto volevo sapere, perché un ragazzo si dovrebbe avvicinare all'atletica? Che sport è? Allora, l'atletica è uno sport che mi ha affascinato da un po' di tempo, ho deciso di praticarlo e devo dire che è uno sport divertente e anche piacevole da praticare. Inoltre, anche se è uno sport individuale, comunque all'interno del gruppo di atletica si sono formate moltissime amicizie che si sono coltivate anche all'i fuori della pista. Allora, per la preparazione a questa gara, che ricordiamo è il prossimo 12 settembre, vi siete allenati con chi e quanto? Allora, ci siamo allenati con la nostra allenatrice, Daniela Zeda, per tutto il mese di agosto. E allora, chiediamo a Carlo invece, ma sarà un giro difficile quello che dovete compiere quest'anno alla Correa Alguero? È più lungo di quello dell'anno scorso, di circa 700 metri. Correremo con i grandi, però noi faremo un giro in meno, perché è anche la prima volta che ci avventuriamo in un giro dove siamo più grandi, e quindi facciamo più... Diciamo che è la prima volta, non ti emozionare, la prima volta hai fatto un giro più lungo rispetto all'anno scorso, quindi praticamente anziché farne due come gli adulti, voi ne farete uno solo, però stiamo aumentando il percorso di 700 metri. Sì, sarà più lungo di 700 metri, quindi ci stancheremo di più, si spera di non arrivare morti. Diciamo che tu sei già preoccupato per come arriverete. Esatto. Ma se vi siete allenati tutto agosto, e questa vostra preparatrice, questa vostra allenatrice, Daniela, vi ha fatto lavorare duramente? Sì, Ogni volta che andavamo là ci faceva fare circa 800 metri all'inizio, e alla fine, proprio ieri, ci ha fatto provare quasi l'intero percorso, così da prepararci al massimo alla gara giovedì, ovvero circa tre giorni prima, faremo un ultimo allenamento per la preparazione definitiva. Chiudiamo il telegiornale con la vela, sabato 12 settembre, le imbarcazioni iscritte al campionato Vento dell'Alghè, manifestazione organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Alghero, si sfideranno in una classica dell'altura sarda, la Alghero-Bosa-Alghèro, trofeo base nautica Usai, organizzata con la collaborazione del circolo nautico Bosa. La partenza è prevista sabato mattina dalla rada di Alghero, con arrivo in serata a Bosa, dove sono previsti cena e pernottamento. Domenica mattina, prua su Alghero, sarà premiato chi avrà realizzato il miglior tempo, compensato complessivo nelle due prove. La premiazione sarà effettuata domenica, in serata ad Alghero, presso la Marina di Acquatica. Questa era, come detto, l'ultima notizia di quest'oggi. Ora spazio alle prisioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.